non so se vi rendete conto buongiorno a tutti e benvenuti nel canale Eppocamper ebbene si finalmente è arrivato l'Orion XS come avete visto dal prologo la differenza è veramente veramente sostanziale prodotto della Victron un DC DC charger sapete benissimo che dico cosa si tratta se non lo sapete andate a vedere il video che ho fatto sull'Orion ve lo metto qui sulla vostra destra che consente come appunto voi saprete di caricare si interpone tra praticamente l'alternatore e la batteria per poter avere una curva di carica corretta e quindi poter caricare la batteria dei servizi in maniera assolutamente perfetta chiaramente questo vale sia per le batterie al piombo che per le batterie al litio ci possono essere tantissimi parametri da modificare ci sono alcuni settaggi preimpostati tutto quanto bluetooth insomma tutto ciò che che conoscete ma oggi arriva veramente una grande novità diciamo che modifica sostanzialmente il prodotto in maniera assolutamente completa in questo video lo presenteremo completamente lo vedremo in tutti i suoi dettagli ne andremo a valutare le migliorie apportate e nella parte terminale lo installeremo e lo proveremo tramite l'app analizzando quali sono le impostazioni principali e verificando il suo funzionamento prima di fare ciò però mettete un like scrivetevi al canale condividete i video con i nostri amici se ritenete che questi siano dei contenuti interessanti ed attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo allora orion xs guardate un po vi ho preso i due orion il precedente il 30 ampere in questo caso e il nuovo questo è il vecchio tipo qua c'è il connettore che non ci serve e questo è il nuovo tipo innanzitutto si presenta in questa scatolina molto molto più bellina molto più fashion diciamo la apriamo e la prima cosa che notiamo ovviamente io poi qui mi sono fatto tutta una lista di tutte le caratteristiche principali di cui vi voglio parlare ci viene fornito con le istruzioni qr code per poterle scaricare e tutte le caratteristiche e eccoli qua cioè veramente veramente una differenza abissale per prima cosa notiamo il peso questo è l'orion il vecchio orion è stato sempre un oggetto molto pesante e a dirvi la verità rispetto ai competitori se della victron della dell'ecosistema victron c'è un prodotto che necessitava di un bel restyling era questo era proprio l'orion infatti guardate che quanto è massiccio questo o questo prodotto presenta nella parte anteriore il positivo in ingresso il ground c'è la terra e il positivo il positivo in uscita qui c'è il controllo per quanto concerne l'accensione diciamo da remoto oppure l'accensione mediante di più del veicolo e questo è il nuovo prodotto innanzitutto il peso pesa meno di un terzo leggerissimo e nonostante ciò ha una capacità dai 30 ampere passiamo 50 ampere quindi potenza di 360 watt potenza di 700 watt quindi questo è molto più potente ci può fornire un massimo di 50 ampere a 14 volt di alternatore quindi veramente un grandissimo progresso la prima cosa che si nota oltre alle dimensioni e al peso è anche la struttura questo è in metallo e chiaramente questo serve per la dissipazione del calore e la presenza del dissipatore inferiore il montaggio deve essere fatto in maniera verticale per permettere il passaggio dell'area nella lettatura posteriore e quindi smaltire il calore in eccesso le temperature di utilizzo di funzionamento di questo prodotto sono veramente elevate si raggiungono anche i 65 gradi a volte non si può proprio tenerlo in mano e questo devo dire è una di quelle caratteristiche che più dava fastidio che necessitava di essere sicuramente rivista questo perché la sua efficienza è dell 85 per cento quindi se noi andiamo a fare un conto abbastanza semplice i 420 watt massimi di questo prodotto per 0 15 abbiamo un 63 watt è come se noi andassimo a buttare 63 watt questo significa che all'accensione del prodotto è come se accendessimo una resistenza a 63 watt all'interno del nostro veicolo quindi è tutta energia elettrica che viene dissipata in calore questo prodotto invece ha un'efficienza del 98,5 per cento quindi nonostante abbia un 700 watt se facciamo il prodotto 700 watt per 0,0 15 vengono fuori circa 10 watt mi sembra sì 10,5 watt quindi a questo punto qui accendiamo una resistenza di 10 watt molto molto di meno quindi si scalderà anche questo prodotto però non necessita più del dissipatore questo è un grandissimo vantaggio andiamo a analizzare quindi la protezione la apriamo cacciavite a croce togliamo la protezione e accediamo ai capi corda vedete quanto sono più grandi rispetto ai precedenti e veramente questi questi sono a vite sono veramente erano veramente fastidiosi vi dico la verità qui possiamo alloggiare ovviamente dei capi se non ricordo male fino a 22 millimetri quadri quindi abbiamo sempre i tre ingressi positivo in ingresso la massa e positivo in uscita questo è quello che va collegato alla batteria questo è quello che va collegato alla batteria del motore questo servizio motore un'altra cosa che notiamo allora è questo tanto lo richiudiamo sulla sinistra una cosa che notiamo sulla sulla destra notiamo il connettore eccolo qui questo connettore è stato migliorato perché ha una linguetta di sicurezza e questo connettore tra hl serve per azionare il dispositivo da remoto quindi in questo caso viene sempre azionato nel caso in cui abbiamo un paio di schemi il positivo su h si attiva quindi tramite il di più oppure se abbiamo un ingresso negativo la possiamo mandare su l quindi lo attiviamo tramite un di meno diciamo in questione a poi ci sono anche tre altre possibilità mediante il bms però noi in questo caso lo faremo diretto da qui una cosa che non era presente nel orion è la porta questa qui alla vostra destra questa è una porta via e bassa la porta via e bassa serve per interagire all'interno di un di uno schema mediante un bms che lavora con la linea via e bassa cosa che non era assolutamente presente sull'orion altre caratteristiche questa meccanica ip 65 quindi protezione dagli schizzi e dalla polvere andiamo a parlare delle funzionalità la potenza è vero che è 50 50 ampere massimo ma possiamo mediante l'app variarla e limitarla per quale motivo potrebbe succedere potremmo avere la necessità ad esempio di caricarla con una corrente non così intensa potremmo avere la possibilità di aver installato una batteria al piombo che non necessita di tutta questa corrente per poi in futuro prevedere l'installazione di una lidio quindi all'interno delle dell'applicazione riusciamo a modificare la tipologia di batteria e la quantità di corrente come sapete nelle batterie al piombo non possiamo utilizzare delle correnti di carica troppo elevate perché altrimenti la batteria tende a rovinarsi quindi più di una ventina di ampere 15 infatti i caricabatteri sono in genere sempre da 16 15 16 ampere per una batteria da 100 non è consigliabile quindi magari in futuro si pensa di poter utilizzare una batteria lì che sostituire l'impianto e mettere una batteria lì che abbiamo già il dispositivo pronto basta fare due settaggi due minuti e abbiamo finito questo presenta la protezione per sovraccarico per cortocircuito e protezione di temperatura altre caratteristiche la corrente di carica anche compensato in funzione della temperatura e questo è molto interessante perché in base alla temperatura rilevata e c'è un'altra cosa che è molto interessante ovvero questo dispositivo finalmente si integra con la rete che viene creata dall'ecosistema victron e regola le correnti di carica eventuali riduzioni aumenti eccetera la corrente di carica viene quindi gestita attraverso le informazioni che vengono dalla rete da tutti i dispositivi di controllo dell'ecosistema victor questa è una cosa molto interessante succedeva con gli MPPT succede con gli altri carica batterie ma non succedeva con questo dispositivo cosa assolutamente io ero sempre stupito di questo lo ritenevo un punto molto importante infatti fortunatamente lo hanno inserito all'interno app victron con i nuovi parametri di controllo questo chiaramente va di conseguenza l'applicazione victron iniziale dell'orio lo potete vedere nel video che ho fatto era veramente molto scarna addirittura non ci consentiva di sapere qual era la corrente prodotto in quel momento cosa veramente insolita per l'applicazione si vedeva che era un prodotto che ha dei parametri di controllo sicuramente limitati in questo caso abbiamo risolto il problema e lo andremo a provare vedremo una volta montato quali sono le caratteristiche adesso vi faccio vedere uno schema di installazione molto molto semplice è veramente banale prendiamo il pc allora vi ho preso il manuale della victron se voi andate all'interno del sito potete scaricarvelo tranquillamente vi prendo vi ho preso uno schema vi faccio un attimo vedere come viene collegato la cosa è molto molto semplice qui sulla sinistra avete la batteria del motore è l'alternatore che carica il positivo avete il fusibile di protezione sulla linea positiva il positivo entra all'interno dell'in del dispositivo la massa questa viene collegata alla massa vedete la massa delle due batterie quindi le due batterie vengono collegate insieme ovviamente l'altro positivo della batteria del dei servizi invece dopo il fusibile viene chiaramente collegata all'uscita quindi la corrente prodotta dall'alternatore fluisce all'interno del cavo viene gestita dall'orion e va viene fornita dall'orion per caricare la batteria in maniera corretta che ha tensioni e corrente in questa parte sinistra noi abbiamo l'accenso la possibilità di accendere il dispositivo mediante un interruttore come vedete ve lo zoom un pochino eccolo tramite un interruttore oppure se la teniamo sempre collegata lui è sempre accesa cosa da non fare assolutamente nel caso di dispositivo installato su una delle nostre macchine sostanzialmente noi abbiamo la necessità di comandarlo tramite di più quindi o tramite di più o tramite rilevamento al resto motore automatico questo poi lo vedremo in futuro eccolo qua vedete lo possiamo o accendere in questa in questa maniera tramite un interruttore oppure tramite un positivo che potrebbe essere un di più tramite un negativo che potrebbe essere un di meno l'ultima immagine è il controllo tramite bms esterno che ma con noi non interessa attualmente facciamo una cosa un pochino più semplice qua ci sono vari altri schemi eccetera eccetera chiaramente logicamente possiamo anche controllarlo mediante applicazione e quindi gestire tutti i parametri oppure tramite il computer mediante l'interfaccia mk3 un'altra cosa che non vi avevo detto è che qua logicamente lui ha bisogno del positivo il chiaramente al centro c'è uno smart shunt che controlla le correnti il flusso di correnti questo in genere viene installato su tutti i dispositivi su tutti gli impianti di itio per cercare di contro di controllare e verificare lo stato di carica della batteria e i flussi di corrente in ingresso in uscita e le varie tensioni diciamo un sistema di controllo ok questo che vi ho fatto vedere è uno schema molto semplice e andremo noi a replicare adesso nella realtà ora andiamo di là andiamo installarlo e poi lo accenderemo e lo controlleremo tramite la nostra applicazione vediamo che cosa succede eccoci qua chiari amici non ho resistito vi dico la verità e alla fine ho fatto l'installazione sul mio veicolo personalmente l'ho messa dove l'ho stato vedendo apparentemente sostituito i due orion da 30 con l'xs da 50 e il che mi ha permesso un pochino di valutarne le prestazioni proprio durante un weekend e le prestazioni devo dire che adesso ve le mostrerò e sono rimasto molto contento durante il ritorno ho semplicemente acceso l'orion alla sua massima potenza vi farò vedere adesso le schermate e ho valutato inizialmente non avevo ben chiara la procedura alla fine orientativamente ogni 20 25 minuti ho valutato un attimo lo stato di carica e quali erano le correnti in gioco andiamo quindi a dare un'occhiata ai dati che vengono fuori dalle registrazioni dello schermo della nostra applicazione victor on connect allora abbiamo lanciato quindi l'applicazione aveva acceso il motore come vedete alle 18 e 51 eccoci qua siamo con nella parte superiore c'è l'uscita la parte inferiore c'è l'entrata avete un'entrata di una tensione di 14 volte 50 ampere precisi 699 quindi 700 watt di potenza questi si trasformano in una potenza chiaramente inferiore lo sappiamo dura è quel 10 12 13 per cento di perdita che si ha durante la trasformazione sia si trasformano in 48 ampere generati che vengono assorbiti direttamente dalla batteria prima fase di carica quindi in questo caso il l'orio spinge al massimo per ottenere la massima carica del maggior numero di ampere in questo caso siamo passati alla 19 e 0 6 quindi poco dopo non avevamo valutato mi ero dimenticato di valutare lo stato di carica della batteria e in questo caso ve lo faccio vedere abbiamo comunque sia la potenza massima sempre di 50 ampere 47 8 entrano dentro a 14,3 volte considerate che la tensione di ingresso leggermente inferiore di quelle in uscita andiamo adesso a valutare eccoci qua lo stato di carica lo stato di carica era della batteria era dell 85 per cento quindi infatti entrano circa 46 ampere considerate i valori delle perdite di carico e ne avevamo consumati 24 quindi per una potenza di 640 watt successivamente arriviamo alle 19 e 38 quindi dopo circa mezz'ora siamo con una carica a questo punto di assorbimento le tensioni sono praticamente uguali gli ampere però sono si sono ridotti in questo caso a 8 ampere 7 7 9 7 6 vedete che tende tende a scendere e quindi chiaramente la potenza espressa è inferiore andiamo a valutare facciamo un salto andiamo a valutare lo stato di carica è circa il 97 per cento 14 2 come tensione entrano sempre meno ampere e quindi la carica la batteria è in uno stato di assorbimento piano piano va a fine carica step successivo 19 53 sempre carica di assorbimento ma adesso le correnti sono veramente modeste 4,5 ampere in ingresso 65 watt 64 watt semplicemente di potenza vediamo un attimo lo stato della carica della batteria siamo al 100 per cento infatti nella parte terminale abbiamo praticamente terminato la carica della batteria e ci possiamo ritenere soddisfatti del comportamento in circa un'ora abbiamo praticamente risolto il problema della carica della batteria ovviamente stiamo parlando di una batteria che va consumato circa 30 ampere e quindi tra le varie fasi in circa un'ora abbiamo completamente ripristinata dobbiamo fare una considerazione relativamente alle temperature degli orion che come sapete erano un po' il tallone d'achille di questo prodotto che era in funzione quindi della conversione come vi ho spiegato nella prima parte del video ecco in questo caso ci dà come vedete guardate andiamo a prendere un qualsiasi una qualsiasi schermata abbiamo una temperatura di 24 gradi centigradi saltando di rilevazioni rilevazioni abbiamo sempre 24 gradi e questo valore non è assolutamente reale perché nonostante stiamo parlando di una temperatura molto molto inferiore considerate io ho stimato intorno non ho fatto la rilevazione col termometro ma stiamo parlando di massimo massimo 40 gradi era appena tiepido e in quest'arco di tempo è logico che nella parte terminale abbiamo avuto una produzione di corrente molto vicina ai sotto i 10 ampere quindi è logico che è un quinto dello sfruttamento massimo della potenza però inizialmente ha lavorato il dispositivo e considerate che non è salita secondo me oltre 40 42 gradi non so per quale motivo questo valore della temperatura è rimasto a 24 gradi secondo me è un problema firmware che verrà sicuramente risolto prossimamente con degli aggiornamenti comunque questo è tutto per questo prodotto che è veramente una grande novità molto interessante è finalmente gestita in maniera corretta all'interno dell'ambiente come vedete abbiamo anche in alto qui a destra avete questo simbolo che è il segno del collegamento in rete e creato nell'ecosistema victron e che ci consente come sapete di gestire in maniera corretta corrente e tensioni in funzione di temperature e dello stato di carica della batteria quindi questo è quello che veramente mancava per il resto un prodotto veramente ottimo leggero con un'ottima efficienza di conversione e quindi assolutamente consigliabile in realtà esistono non esiste una grandissima possibilità di averlo in tempi rapidi perché la produzione è abbastanza limitata e quindi bisogna programmarlo abbastanza in anticipo per questo prodotto per l'orion xs è tutto spero che questo video vi sia piaciuto a me è stato sicuramente molto utile e spero lo sia stato anche per voi per oggi quindi è tutto se vi è piaciuto il video come al solito mettete un like e iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo come al solito ci vediamo la prossima